Parliamo adesso della feriera triestina di Servola perché l'amministrazione di piazza non riuscirà a chiudere l'area a caldo della feriera. Questo in sintesi il senso dell'incontro organizzato dal neocostituito coordinamento cittadino della lista civica No Feriera di Trieste in collaborazione con il Circo Lomiani. Ad aprire il dibattito Romano Pezzetta, già responsabile della conduzione degli alti forni sotto i talsidere, Pittini, ex vicepresidente del Miani e portavoce di Servola Respira. Un intervento critico sugli errori che a suo dire l'amministrazione di piazza sta facendo nei confronti delle emergenze ambientali tuttora presenti nell'area di Servola. E' seguito un intervento di Aurora Marconi, promotrice di tre mozioni approvate dalla settima circoscrizione su depuratore fognario cittadino, bonifica dell'area del vecchio inceneritore di via Giarizzole e interventi urgenti sulle aree verdi.